Buonasera a tutti signori, bentrovati, buon 2024. Oggi affrontiamo un tema importante. Vi spiego le novità 2024, listino prezzi, vi dico soltanto che cambiano un po' di cose. Allora, viste le varie... la piega che sta prendendo la situazione, ragazzi, che davvero mi sorprende, perché io inizio a vedere persone che hanno problemi esistenziali, hanno bisogno di psicologi, hanno bisogno di psichiatri. Ci sono diverse persone che stanno davvero tendando a ogni modo per avere la strategia gratuitamente. Cercano di minacciarmi. Vi dico che una persona è arrivata anche ad andare al mio paese a fare delle fotografie, che mi hanno andato sul Telegram. Ho fatto la denuncia, ma non farà... cioè, alla polizia postale, ma siamo in Italia, non succederà nulla. Tra l'altro ho anche sbagliato... quelli non sono familiari miei, quindi il fatto che hai fatto... quindi, cioè, vedete a che livello siamo arrivati. Gente che le va chiedendo a tutti quelli del mio corso, con scuse da bambini, l'ho persa, me la mandi... cioè, roba, roba veramente allucinante. Per quanto per 200 euro? Ma cosa sono 200 euro nel mondo di oggi? Zero, non sono nulla, purtroppo, eh, purtroppo. E voi per 200 euro andate a fare il giro delle sette chiese. Ma ragazzi, ma io vi dico una cosa. La strategia solo PDF va bene per chi è già più avanzato. Ci sono delle cose che non sono dette. Per cui è capace che non vi basta. Per cui la prendete, non potete nemmeno chiedermi nulla. Non è che mi sono reso conto, facendo una lezione con una persona che saluto qualche giorno fa, che, appunto, lui ha solo il PDF, ma aveva delle lacune che colmeremo in futuro. Però, appunto, immaginatevi che è tutto regolare, c'è tutto a posto, ci conosciamo. Immaginatevi di essere una persona che magari l'aveva presa così. Non poteva mai capire. In più, ragazzi, io i video sono a scopo dimostrativo, ma io non faccio vedere le cose, sono a metà. Quindi, se voi fate i video, anzi, vi dico, copiate i video, copiate i video. E poi ridiamo, perché non sono così coglione, se qualcuno lo pensa, da mettere la strategia nei video di YouTube. Se qualcuno lo ha pensato, avete pensato male. Perché qualcuno mi ha anche detto, ah, io ho capito, la strategia è questa, questo è questa. Mi te la conferma, ma sei malato, secondo te basta fare sì questo, questo e questo per fare soldi, ma siete malati. Quindi, 2024, la strategia Revolution solo PDF Euro 200 non cambia per l'inflazione, perché probabilmente, 2025, questo pacchetto strategia Revolution solo PDF andrà a scomparire e sarà inglobato dai corsi. Questo è quello che potrebbe accadere nel 2025. La strategia vince nel senato secondo solo PDF Euro 100 e rimane uguale, ma nel 2025 passerà a 200. Il corso base Euro 600. Non cambia nulla. Le 13 video lezioni, database, operazioni commentate, web di armensili, gruppo corsi su Telegram, assistenza e introducono la novità, lezione chiacchierata introduttiva per tutti quelli che entrano. Voglio considerare che nel 2025 questo corso ingloberà la Revolution, per cui chi vorrà imparare la Revolution dovrà per forza acquistare questo corso, versione base. Avete 12 mesi di tempo, perché è tutto da questo PDF che nasce la discordia, perché tutte queste agende non sono persone normali che vogliono fare il corso, collaborare. Sono gente malata, gente che veramente non commento. Poi, la novità è questa. Ci sarà il corso completo, versione 1 to 1, Euro 1000. Qual è la differenza? Nel corso completo 1 to 1 avrete tutto quello che c'è nel corso base, quindi le video lezioni, webinar, gruppo corsisti, eccetera. Soltanto che le video lezioni, avrete accesso a quelle registrate, ma saranno fatte 1 to 1 in live. Quindi ci sentiamo, ci mettiamo d'accordo. E nel giro di un mesetto e mezzo facciamo tutte queste lezioni. Quindi qua 6 settimane, 2 volte a settimana ci vediamo e passiamo. Quindi la lezione sarà anche interattiva, spiegazione, ma ci sarà anche il dibattito. Per cui credo che la curva di apprendimento è molto maggiore. E' una cosa che mi hanno chiesto in parecchia, allora perché non farlo? Euro 1000, naturalmente il tempo deve essere naturalmente pagato. La Revolution Dashboard Euro 100, abbonamento annuale, la strategia Spartacus Euro 100. Poi c'è il percorso Masterclass. Per tutti quelli che hanno fatto il corso è possibile fare un percorso di coaching e approfondimento sulla psicologia. Quindi c'è il materiale, sono 6 mesi di coaching, una volta a settimana, materiale aggiuntivo. E vorrei soltanto dire questo, per il possessore il corso è base, il corso è di 600 euro, quindi 600 euro ulteriori. Per chi ha il corso 1 to 1 solo 300. Quindi questo è tutto quello che io ho da offrire. Nel 2025 si andrà più verso il corso che verso la cosa. Cioè, cosa voglio dire ragazzi? Siccome ho notato che molte persone, per quando si professano esperti, ma esperti ce ne sono pochi, perché raga, parliamoci chiaro, io non vado a comprare la strategia da altre persone, perché io trado. Io il giorno so sui grafici, ho da fare, ho da fare soldi, non ho da perdere il tempo. Quindi se io andassi a comprare, vuol dire che avrei qualche problema. Per cui quando io gli dico, ragazzi, ma voi, io vi do il pdf, ma voi avete, sì, Gio, siamo esperti, esperti, e poi dopo non sapete fare. Allora, preferisco magari anche avere meno persone, ma che vogliono investire, vogliono fare un corso serio. Non vogliono, diciamo così, perché poi ho anche notato che molte persone vanno alla ricerca spasmodica del pdf, cioè, che è una cosa sbagliata, perché non lo voglio prendere da me, ma non mi interessa, manco dei soldi, e lo vediamo. Ma è proprio il concetto, cioè non hai nemmeno l'assistenza, non hai nulla, e non sai se ti può bastare. Per cui eviteremo in futuro che questo avvenga. Faremo solo corsi e amen. Quindi, questo sarà l'ultimo anno che c'è questo, dal 2025, solo corsi. Preferisco fare una persona ogni tanto, anziché dare il pdf a dieci persone, sinceramente. Sbaglierò, ma a me non mi servono soldi, quindi. Ma ragazzi, ma siccome queste persone, la novità qual è? È asciutto pazzo padrone, diceva Nannapoli. Siccome queste persone attaccano, rompono le palle, anche in privato, ragazzi, sono ricevendo, sapete, tutti adesso si sono svegliati, negli ultimi 3-4 mesi c'è un fuoco. Ci sarà la sfida. Voi volete la strategia gratuitamente? Non volete darmi soldi? Io non voglio i vostri soldi. Tant'è che a una persona di questi falliti, io non gliel'ho data, lui era pronto a pagarmela, lui, io non gliel'ho data, perché la mia soddisfazione è anche dire di no a questa gentaccia. Ma io la volete gratis? Io ve la do gratis. Eh, ma dovete sottostare ad una sfida, ragazzi. Se sopravvivete, avrete la strategia gratis. Perché, siccome poi voi vi andate a guardare i video degli altri truffatori, e chiamate me il truffatore, ma ci sono gente che su YouTube fa un marketing molto semplice, vi dà strategie gratuite o a poco prezzo, e dopo vi fa mettere i soldi sui loro link, e voi li perdete, e loro se li beccano. Io non l'ho mai fatto, anzi, sono quello che ve lo viene a spiegare questo discorso, ma facciamolo. Perché voi volete barabba? Il popolo vuole barabba, non vuole Gesù Cristo. Il popolo vuole barabba. E diamogli barabba, ma perché dobbiamo fare sempre i cavallari? Allora, io farò sempre e sarò sempre buono, bravo e onesto con chi è buono e bravo e onesto con me. Però quando arrivano queste persone, perché comportarsi bene? Facciamo i cattivi. Allora, ragazzi, esci te pazzo a vedere. Revolution gratis a due condizioni. Allora, sfida Johnny Imperator. 500 dollari di versamento dal mio link, e ora lo faccio anche io come fanno gli altri che voi andate a mettere mi piace, andate a guardare, su Grand Capital o Pocket Option, con uno per di turnover. Cioè, cosa voglio dire? Non è che voi fate il versamento e basta, fate il versamento e dovete investirli. Con che strategia? A me non interessa. Siccome siete bravi, le avete tutte. Andate da qualche youtuber e ve la fate dare. Se, ovviamente, se avete già il link, se siete già iscritti, nessun problema, possiamo fare il passaggio, lo dovete solo comunicare. Giovanni, voglio fare la sfida Johnny Imperator, tutto da quando avete versato 500 dollari. E li avete investiti almeno una volta, uno per, questo vuol dire il turnover. Quindi, ho aprito un'operazione da 500, oppure aprite 10 operazioni da 50, più quelle che magari vincete, eccetera. Non mi interessa la balance finale, quelli sono i problemi vostri del broker. Se volete farlo, dopo che avete investito questi 500 eurini, naturalmente non vale né solo il turnover, perché potete mettere anche 100 dollari, vincere e fare turnover, e né solo il versamento. Non sono scemo, ragazzi, purtroppo sono qui 12 anni che sono dentro sta roba, il broker me ne intendo. Chi passa questo test contro se stesso, perché poi i soldi che perdete, a me può andare una parte di quei soldi solo se nel mese io ho solo gente che perde dal mio link. Siccome io sono il primo sotto il mio link, quindi non mi daranno mai nulla, anche perché in passato ho sempre preso, quindi, con il mio account personale, quindi gli sto facendo i danni a loro, ma non mi interessa, se li prendessero il broker, i soldi non li voglio, però volevo far capire che voglio dimostrare quanto siete, voglio dire, banali. Vedremo, se c'è qualcuno che lo fa. Chi invece vuole il corso, 1000 euro di versamento dal mio link su Grand Capital Option, o Pocket Option, con uno per di turnover, stessa regola, avrete addirittura il corso base, gratis. Quindi, se riuscite a sopravvivere, a rimanere in piedi, benvenga, avrete un corso gratis. Se invece li perdete tutti, vi sarà costato 500, 1000, e a me, però avrete comunque il corso, quindi, pensateci, siccome molti di voi sono bravi, hanno già molte strategie, seguono tutti, gente più onesta di me, gente più brava di me, chi vuole tentare lo fa. Io sono anche aperto, vedete, io sono aperto a tutto, perché mi avete rotto le scatole una vita, le damme, le dacci, la io ve la do gratis, la strategia la volete? Queste sono le condizioni. Nella vita, ragazzi, bisogna essere buoni, ma, come diceva un grande, molti nemici, molto onore. Senza, quando un nemico ti fa un torto, porgi l'altro a guancia, prenditi l'onore. Io mi prenderò molto onore con questa gente, se c'è qualcuno che avrà la faccia di farlo. Invece, quelli che sono persone che rispettano, eccetera, che hanno voglia di intraprendere, ora, scherzi a parte, un percorso serio, questo è quello che, questi sono i prezzi. Ovviamente, come ho detto, credo che in futuro tenderà più ad essere un corso, perché ho visto che è il modo migliore per imparare, il modo migliore per far passare informazioni, il modo migliore anche per avere un controllo con la persona, perché la persona comunque entra nel gruppo di Telegram, ma, al di là di che entra nel gruppo di Telegram o no, interagisce o no, la persona, se ti dà 600 euro, mi scrive, Giovanni, io non ho capito, Giovanni, ti aggiorna, si crea un rapporto, io posso tenere sotto controllo, la persona che magari si dà 200, che fa? Se si prende il PDF, qualcuno gli dà una lettura, qualcuno addirittura dice che sono tante pagine, 120 pagine sono tante, c'è una difficoltà a leggere, e lo butti là, invece così col corso vai più, e credo che questa debba essere la strada, perché, e poi è quello che c'è la maggior parte, credo, naturalmente, quantità di informazioni, stiamo andando, io poi ricordo una cosa, andiamo a fare cose complesse, dobbiamo guadagnare soldi, perché tutto questo ambaradano trading, imparare a far trading, fare trading uguale a fare soldi, quindi, come se tu vai a fare la guerra con le scarpe rotte, voi cerca di andare con le scarpe rotte, copio quello da YouTube, ma secondo voi, io e altri, mettiamo roba su YouTube, che a voi insegnano, cioè, gratis, a fare delle cose complesse, ma secondo voi è possibile? No, dico, in qualsiasi altro settore, secondo me è possibile, sapete che mi sembrate? Io sono appassionato di Corsano, e seguo un grande coach, che adaltro mi segue, perché io sono un suo coachato, perché pago ogni mese, e prende dieci persone al mese, e io sono entrato pagandone, che è gratis, e io vedo sotto i suoi video, che ho molto seguito, gente, mi fai una scheda, mi dai un consiglio, lui mette tutto, che poi la scheda per la corsa, più o meno sono quelle, uno può improvvisarsi, può fare il fai da te, che ho fatto anche io, ma i risultati sono mediocri, lo adegui al tuo ritmo, si può calcolare il ritmo massimo, eccetera, e però poi c'è da capire la persona, non è che mi prendi così, mi consiglio là, ti guardi un video su YouTube, e fai beh a correre, non funziona così, e poi va a fare la mezza maratona, quando hai messo? Eh due ore e mezza, noi ci mettiamo un'ora e mezza, cioè utilizziamo un'ora di distacco, e questo vale anche nel trading, ora, scherzi a parte, che io ci metto un'ora e mezza, un'ora e quattro, un'ora e cinquanta, a fare la mezza maratona, non frega niente a nessuno, sinceramente non è il mio lavoro, ma se voi andate a fare trading, pensando di, cioè dovete fare soldi, con cose che non avete capito, che dovete guardare i miei video, con al centesimo, ah fatto questo, quindi si fa così, state male, state fuori strada, un consiglio mio, se bisogna fare le cose, bisogna farle seriamente, altrimenti non le fate, perché rischiate di ingrassare i broker, per sé, comunque, buon 2024, ragazzi, buon 2024, sarà un bellissimo anno, siamo sempre qua, per la gioia di molti, per l'invidia di pochi, ma siamo sempre qua, un abbraccio e un bacio, ciao.